Le pizze volano! Pizzaiolo, super veloce, già dici anni di esperienza. Due anni! Lui dice due anni, ma è anni che lavora invece, sto per Roma. Adesso ci mette il pomodoro, ogni pizza ci mette in mezzo. Pizzaiolo! Pizzaiolo! Questa è la pizza strudel. Questo video di verdure. Ecco adesso la pizza in forno. Perfetto! Ecco la pizza. Cinque formaggi. Sant'Ano. Ecco la pizza strudel vegetariano. Ecco qua le pizze. Ecco la pazzina da pastrata. Grazie a tutti.